Sette treni sulla Porrettana per rilanciare il turismo di prossimità in modo colto, lento, ma soprattutto sostenibile, con il treno storico per valorizzare la provincia italiana e rilanciare la microeconomia territoriale. Tornano i treni storici sulla Porrettana dopo lo stop a causa della pandemia. Da luglio a ottobre sono in programma sette viaggi a bordo delle vetture d'epoca tra Toscana e Emilia Romagna per conoscere la montagna pistoiese, i piccoli borghi, le antiche tradizioni e i luoghi che hanno fatto la storia d'Italia. Il primo fischio sarà domenica 11 luglio, sarà un viaggio inaugurale speciale con partenza dal deposito officina rotabili storici di Pistoia dove tuttora si fa manutenzione a vetture storiche ancora perfettamente funzionanti e saranno soltanto per questa volta possibili due destinazioni, Pracchia oppure Porretta Terme. I treni storici torneranno poi a viaggiare su quella linea pensata in origine per collegare il sistema ferroviario austriaco con la rete toscana inaugurata ufficialmente nel 1864, tre anni dopo l'Unità d'Italia, il 25 luglio, il 12 e il 19 settembre e il 3 e il 17 e il 31 ottobre. Sette viaggi a tema legati alla storia, al folklore e alla tradizione enogastronomica del territorio, un territorio che sa valorizzare il progetto della Porrettana Express grazie alla capacità delle piccole realtà e associazioni e delle istituzioni pubbliche, comuni, regioni toscana e fondazioni FS per citarne alcune, di fare squadra ma che al contempo viene esso stesso valorizzato dal recupero e dalla rimessa in esercizio di questa linea, un patrimonio da valorizzare e tutelare. In questo progetto il Comune ci ha creduto fin da subito e lo ha individuato come uno di quegli strumenti per rilanciare le nostre zone montane che sono ricche di bellezze, sono attraversate dalla ferrovia storica della Porrettana e era necessario in qualche modo rispolverare tutto, rilanciarlo e promuoverlo bene. Con l'aiuto di tanti ma soprattutto della fondazione FS siamo riusciti in questa impresa che speriamo di consolidare negli anni e che ha avuto sicuramente una risposta, un gradimento da parte delle famiglie non solo di Pistola ma di tutta Italia incredibile che ci ha dato un grande entusiasmo. Quindi vi aspettiamo per visitare questi luoghi magici attraverso la Porrettana e i suoi termini storici. I titoli di viaggio saranno acquistabili solo online sul sito www.porrettanaexpress.it Buon viaggio!